In queste ore è spuntata sul web una notizia davvero esilarante che riguarda un ex concorrente del GF VIP molto discusso Stiamo parlando di Marco Bellavia, il quale sembra aver dimenticato il suo, amore, per Pamela Prati grazie a Sheila Sull'ultimo numero del magazine, chi, infatti, è avversa una foto in cui vuoi All right, now, who do you love, your pretty woman? Let me tell you how a good time in love can go good ass Go on the west, this, who do you love, pretty woman? Baby, touch the morning in the desert Now I feel it only that it's hours and hours And I wanna spend the night Baby, smash your heart, drag your heart right down to the ground Who do you love, your pretty woman? Let me tell you how a good time in love can go good ass The wild, wild, what's this, who do you love, pretty woman? So lay your head down to stay a little bit longer Who do you love, your pretty woman? Let me tell you how a good time in love can go good ass Go on the west, who do you love, pretty woman? L'influencer Deyanira Marzano, ad esempio, ha commentato la faccenda dicendo di reputare davvero assurdo tutto questo teatrino A suo avviso, infatti, Pamela Prati sarebbe stata cancellata con un rapido e repentino colpo di spugna Questo, probabilmente, perché tra loro non c'è mai stato nulla Ad ogni modo, dato che il numero sarà in edicola domani, i diretti interessati non hanno ancora commentato la faccenda in maniera ufficiale Non resta che attendere per vedere se diranno qualcosa